Ma guarda Massimo, io ascoltavo Luca che diceva che è venuto fuori in questa parte il Fabrizio migliore, quello a cui Massimo Giletti ha teso una mano. Io penso che la mano non la debba tendere a Fabrizio e ai tanti Fabrizio di questi paesi, Giletti o alla televisione, ma lo Stato. È lo Stato quello che può aiutare una persona ad uscire da una malattia mentale e a riabilitarsi rispetto ad una vicenda come quella di Fabrizio. Io mi auguro sinceramente che lui resista, che non apra quella finestra della disperazione che io conosco molto bene essendoci passata a mio malgrado e che abbia la forza di andare avanti perché poi il sole splende ancora, cioè nonostante tutto. Penso che si è parlato molto di questo caso, che lui abbia dato un segnale e mi auguro anche che finalmente lo Stato abbia una faccia di pietas rispetto a questo. Avvocato Chiesa, grazie Nunzi, Avvocato Chiesa.